Sant'Antonio con le cuffiette dei giovani, isolato in un mondo tutto suo? Non è così, per il giugno Antoniano 2018 i frati del Santo hanno scelto un Antonio benedicente e con il cuore giovane, con la sua e la loro basilica aperta alla città, ai tanti pellegrini che verranno da fuori e aperta ai giovani. L'ispirazione gliela data il prossimo Sinodo dei Vescovi a loro dedicato. Un messaggio che vogliamo dare è proprio quello di un Sant'Antonio giovane che parla ai giovani, lui era giovane e può, credo, comunicare fiducia e speranza a un mondo giovanile a volte disorientato. Scenario dei consueti appuntamenti di fede, gli otto edifici e complessi monumentali cittadini affrescati nel 300 che compongono il progetto della Padova Urb Spicta, città dipinta, dalla Cappella degli Scrovegni fino alla Basilica di Sant'Antonio e all'Oratorio di San Giorgio, scrigno di arte e spiritualità. Il Comune non può stare a guardare, deve essere parte attiva di un processo di rete tra le due realtà fondamentali, il Comune e il Santo, che rappresentano e possono rappresentare e lanciare Padova sempre più a livello internazionale. Molti gli appuntamenti in programma, oltre ai momenti spirituali, mostre d'arte, incontri culturali, concerti, performance teatrali itineranti, manifestazioni podistiche, visite guidate in città e dell'antico complesso antoniano. Si inizia come tradizione con il Cammino di Sant'Antonio, pellegrinaggio a piedi da Campo San Piero a Padova nella notte tra il 26 e il 27 maggio, il culmine nella riavocazione storica del transito di Sant'Antonio il 12 giugno all'Arcella e ancor più nelle celebrazioni religiose del 13 con le tante messe e la processione. Tornando ai giovani, concerto e vento il 22 giugno con la rock band The Sun, da sempre molto attenta anche al bene comune. Che sia la loro musica quella che suonano le cuffiette di Antonio?